il soggetto. Quello che in realtà ha lasciato la richiesta al momento è di circa un milione e mezzo di euro come danno, tenete conto del fatto che naturalmente noi abbiamo dovuto fare dei calcoli anche un po' inediti perché sono comunque tutte aree, in questo caso sono aree a verde, a parcheggio pubblico, che al di là del valore patrimoniale, a livello proprio di utilizzo.